ciao dolcia oggi vorrei presentarvi il mio cocoon allora il mio cocoon in realtà non è mio è un progetto della mia unica francesca lettieri che ha deciso di variare un po quello che è un progetto classico quello del cocoon ma non farlo con le solite proporzioni quindi non realizzarlo partendo da una piastrella quadrata per poi chiuderlo ma partire da un pannello rettangolare e in questo caso ha usato un punto veramente molto bello e molto coprente per renderlo molto caldo è un po diverso dai soliti cocoon io ringrazio francesca per avermi concesso di usare il suo modello quel suo punto comunque la sua realizzazione e l'ho interpretata leggermente diverso da dal suo quindi il suo rimane un po più classico e con un filato più leggero un po più a spolverino diciamo il mio rimane un po più a giaccone a vita quindi comunque ho rivisto le proporzioni ma in realtà la realizzazione la stessa cambiano solo ed esclusivamente le misure quindi potete decidere se realizzarlo un po più grande e quindi più a spolverino oppure come il mio io al centro ho deciso di mettere una semplicissima pinzetta vedete c'è una semplice pinzetta per chiuderlo oppure si può lasciare aperto e vi faccio vedere anche il punto che è veramente bello questo fiorellino ecco qui se si vede c'è l'ombra della videocamera il fiorellino il polsino a tre quarti mentre il suo essendo più grande il cocoon rimane a manica lunga ma ripeto la realizzazione è la stessa cambiano veramente soltanto le misure il filato io per il filato io ho usato un filato ice yarns che potete trovare nel sito italia artisan e vi lascio poi in descrizione il link ora io non mi perderei ulteriormente in chiacchiere ma vi lascerei al tutorial per il mio progetto di oggi vado a usare questo bellissimo filato della ice yarns e vi dico subito che di che filato si tratta quindi è il magic light è un 100 per cento acrilico e il gomitolo è da 100 grammi per 360 metri uncinetto consigliato 4 4 e mezzo è molto morbido sintetico veramente molto morbido e questo come altri filati della ice yarns li potete trovare nel sito della mia amica francesca italia artisan ora passiamo direttamente al progetto poi in descrizione vi lascerò il link del sito dove potete naturalmente trovare questo e tanti altri bellissimi filati come avrete capito dall'anteprima appunto oggi andremo a fare un bellissimo cocoon e lo faremo con questo punto che ho preso dalla dal web e ho trovato anche molti tutorial di questo bellissimo punto e ho deciso di farci appunto il mio cocoon perché volevo una cosa molto coprente e molto calda in quanto volevo poi utilizzarlo anche nelle stagioni nelle mezze stagioni quali autunno e primavera proprio come giacca anche per uscire e quindi ho scelto un punto molto coprente che lo rende molto molto caldo allora per il mio cocoon io ho fatto un pannello con questo punto largo 100 centimetri quindi un metro e alto 64 centimetri ora ovviamente per farvi vedere il punto vi faccio un piccolo campione per questo punto allora per il progetto originale ho avviato 151 catenelle mentre qua ne ho montata proprio pochissime perché devo farvi giusto un campioncino e questo punto appunto si lavora su un numero dispari di maglie quindi è l'importante che sia dispari non è necessario che sia un numero ben preciso quindi fatte le nostre catenelle andiamo a fare altre due catenelle che saranno la nostra prima mezza maglia alta ed andiamo per l'appunto a fare tutto un giro di mezze maglie alte questo giro non sarà assolutamente parte dei giri per realizzare il nostro punto è semplicemente la partenza il nostro punto sarà composto da due giri e questo non farà parte appunto di questi due giri quindi non non lo conteremo come giro ma solo come avvio del lavoro finito il mio giro di mezze maglie alte facciamo due catenelle voltiamo il lavoro ed ora andremo a lavorare in questo modo qui carichiamo il filo ed entriamo nella primissima maglia ma entriamo in costa quindi dal centro della catenella che si forma sulla costa entriamo e andiamo verso l'esterno e quindi tiriamo sul primo filo ricarichiamo entriamo in quello successivo sempre in costa peschiamo il filo alziamo ricarichiamo entriamo nel punto successivo sempre in costa peschiamo il filo alziamo alziamo abbiamo sette occhielli sull'uncinetto peschiamo il filo carichiamo il filo chiudiamo tutti e tre insieme e chiudiamo con una catenella di nuovo carichiamo il filo entriamo nell'ultimo punto lavorato sempre in costa peschiamo il filo alziamo carichiamo entriamo nel punto successivo sempre in costa peschiamo il filo e anzi alziamo carichiamo il filo punto successivo in costa prendiamo il filo alziamo sette occhielli sull'uncinetto chiudiamo con una catenella in questo modo noi stiamo già creando la costina rilievo di nuovo carichiamo il filo ultimo punto lavorato ci rientriamo peschiamo il filo alziamo carichiamo punto successivo in costa peschiamo il filo alziamo carichiamo il punto successivo peschiamo il filo e alziamo sette occhielli sull'uncinetto carichiamo usciamo da tutti e chiudiamo con una catenella vedete si sta creando la costina con sopra il nostro fiorellino di nuovo carichiamo ultimo punto peschiamo alziamo carichiamo punto successivo peschiamo alziamo carichiamo punto dopo peschiamo e alziamo chiudiamo tutti e sette i punti chiudiamo con una catenella l'ultimo punto per il campioncino di nuovo lo faccio più velocemente 2 e 3 ecco qui chiudiamo tutti insieme e catenella l'ultimo punto non faccio altro che fare nella catenella seconda catenella una mezza maglia alta e abbiamo finito il nostro primo giro ora andiamo a fare il secondo giro per il nostro secondo giro non facciamo altro che fare due catenelle voltare il lavoro e andare a fare due mezze maglie alte nei forellini creati dalla catenella di chiusura del fiore sottostante quindi due catenelle sarà la maglia mezza maglia alta di inizio carichiamo e andiamo nel foro appunto creato dal fiorellino ecco qui e facciamo una e sempre nello stesso foro due mezze maglie alte carichiamo passiamo al foro successivo vedete proprio qua il foro del fiorellino vediamo se si vede bene ecco qui entriamo e facciamo una e due mezze maglie alte quindi in ogni scusate foro del fiorellino sottostante andiamo a fare due mezze maglie alte il giro sarà sempre questo quindi il secondo giro sarà sempre composto da due mezze maglie alte nel forellino del fiore sottostante ne andiamo nell'ultimo fiorellino vedete facciamo anche l'ultimo dopodiché carichiamo e facciamo una mezza maglia alta sulla seconda catenella d'inizio del giro sottostante entriamo qui e facciamo la nostra mezza maglia alta ecco qui abbiamo fatto il secondo giro quindi proseguiremo in questo modo ripetendo il primo giro quindi due catenelle voltiamo nella primissima catenella in costa entriamo carichiamo e alziamo di nuovo carichiamo il filo entriamo nella seconda catenella quindi nella seconda maglia sottostante in costa carichiamo il filo e alziamo ricarichiamo il filo entriamo nella terza peschiamo il filo alziamo chiudiamo tutti e sette gli occhiali insieme catenella e abbiamo fatto il primo fiore andiamo a fare il secondo sempre nello stesso modo quindi entriamo nella prima nella seconda nella terza chiudiamo catenella ricordatevi sempre che la prima è nell'ultimo punto già lavorato quindi la prima la seconda e la terza chiudiamo catenella di nuovo scusate la prima la seconda la terza chiudiamo catenella di nuovo la prima la seconda e la terza magari la terza non si vede bene se l'ultima ma c'è ecco qua catenella dopodiché chiudiamo sempre con la mezza maglia alta sulla seconda catenella d'inizio del giro precedente in questo modo ecco qua così dobbiamo proseguire vedete che viene il nostro fiorellino con la costina al centro quindi abbiamo delle fasce a fiorellini e delle costine che li dividono la lavorazione sarà per tutti i giri sempre la stessa quindi fino a raggiungere l'altezza di 64 cm poi io ripeto 64 per la mia taglia ma voi andate a piacimento se lo volete più largo e quindi una taglia superiore allargate il vostro pannello sempre tenendo conto di mantenere una serie di catenelle dispari e se volete farlo più lungo basta proseguire facendo giri in più ora vi faccio vedere come continuare sull'originale il nostro cocoon ora utilizzando questo tovagliolo vi farò vedere come dovrete chiudere il vostro cocoon perché il mio è già chiuso allora dovrete prendere i due angoli e chiuderli al centro o se preferite lo piegate semplicemente a metà in questo modo e chiudete lasciando il foro per le maniche quando poi andrete ad aprirlo prenderà questa forma poi deciderete voi come chiuderlo se in questo modo dal dritto oppure nell'altro senso comunque questo è il senso nel quale va chiuso il nostro cocoon quindi uccirete questa questi due lembi lasciando l'apertura per il braccio e questi due lembi lasciando l'apertura appunto per il braccio noi ora proseguiremo a maglia alta tutto attorno il nostro cocoon il mio loggia chiuso purtroppo avevo fatto una registrazione precedente che non è andata a buon fine e quindi non posso farvelo vedere diciamo in tempo sul progetto originale e in tempo reale comunque viene chiuso in questo modo vedete io lo faccio vedere chiuso il progetto originale se voi lo chiudete in questo senso per farvi capire bene lo chiudete così e lasciate vedete c'è la mia cucitura e lasciate proprio lo spazio per far passare la manica quando poi lo metterete in piano la cucitura risulterà appunto in questo senso quindi con l'apertura per la manica e la cucitura sul davanti ora procediamo insieme sul progetto originale quindi ho fatto il mio occhiello ecco qui ho fatto il mio occhiellino e sto andando a agganciarmi al foro della manica e aggancerò proprio nell'angolino con una maglia bassissima 3 catenelle perché andremo a iniziare con un giro di maglia alta e cosa faremo faremo nel forellino del fiorellino e prendete proprio il fiore perché se voi prendete l'ultima maglia vi rimarrà un buco quindi io ho ritenuto più bello anche se si accorcia un po la manica e si sovrappone entrare proprio nel buco del fiorellino quindi l'ultimo fiorellino che avete di lato entrate e nel fiorellino fate due maglie alte mentre sulla costina scusate ho urtato di nuovo la camera sulla costina che vedrete andrete a fare una maglia alta prendendo proprio come si dice la catenella quindi andando al centro della catenella quindi non sul bordo della maglia ma proprio nell'ultima catenella e andate avanti in questo modo quindi caricate entrate nel prossimo fiore vedete qui non qui non andate a agganciarvi sul bordo ma proprio dentro nel buchino del fiore e fate due maglie alte in questo modo dopodiché scusate ma è stretto qui dopodiché andate a far caricare di nuovo entrate nella costina quindi in questa catenella questa si forma una sorta di catenella rilievo entrate proprio in quella costina e fate una maglia alta singola di nuovo due nel fiorellino in questo modo e una sulla costina proprio al centro della catenella che si vede e quindi fate questo primo giro di maglia maglia alta tutto attorno alla manica ho chiuso con una maglia bassissima appunto sulla terza catenella d'inizio ora cosa facciamo proseguiamo per dieci giri in questo modo quindi facciamo tre catenelle e calcoleremo come prima maglia alta presa da dietro quindi faremo dieci giri di costa 11 a rilievo quindi una presa davanti e una presa dietro quindi questa la calcoliamo come presa dietro carichiamo il filo e la prendiamo davanti in questo modo entriamo tra quella appena lavorata e la prossima in questo modo prendendo la maglia da dietro carichiamo il filo usciamo e facciamo una normalissima quindi lavoriamo tranquillamente con una normalissima maglia alta ora carichiamo il filo e lo facciamo al contrario quindi passiamo da dietro passiamo davanti alla maglia in questo modo prendiamo il filo usciamo e chiudiamo la maglia di nuovo la prossima da davanti prendiamo la maglia in modo da averla sull'uncinetto in questo modo e la chiudiamo come una normalissima maglia alta la seguente proprio facciamo al contrario quindi entriamo da dietro passiamo davanti alla maglia da lavorare prendiamo il filo aspettate perché mi è caduto in questo modo così e facciamo la maglia di nuovo da davanti il primo giro vi risulterà un po' diciamo difficile perché le due che abbiamo preso all'interno del fiorellino risultano molto vicine ma dal secondo giro in poi sarà tutto più semplice quindi questa l'abbiamo presa da davanti la prendiamo da dietro vi faccio proprio vedere entro da dietro passo davanti alla maglia ripasso dietro pesco il filo stringete tirate un pochino la maglia in modo che uscite agevolmente e fate la vostra maglia alta ricarico il filo passo dietro in modo da avere la maglia sul davanti dell'uncinetto ecco qua e questa è quella in rilievo davanti di nuovo in rilievo dietro quindi passo dietro tra le due maglie la scavallo e vado a prenderla di nuovo da davanti e così per dieci giri adesso vi faccio da sola questo giro vi faccio vedere come si lavora il secondo giro con questo punto dopodiché per dieci giri proseguiremo da soli ho chiuso normalmente nella terza catenella d'inizio il secondo giro lo dobbiamo lavorare semplicemente come si presenta quindi tre catenelle per iniziare quindi questo secondo giro e tutti quelli a venire carichiamo e la prima è presa a rilievo davanti quindi vedete ci entriamo più agevolmente perché è già spostata in avanti la seconda è presa retro vedete come entriamo e usciamo molto più facilmente da tutte le nostre maglie perché sono spostate un avanti e una dietro di conseguenza riusciamo anche a prenderle molto più agevolmente quindi questo giro lo andiamo a lavorare questo come tutti gli altri io ripeto sono arrivata a dieci giri quindi lì lavoriamo e lo lavoriamo esattamente come si presenta quindi se costa se a rilievo davanti lo prendiamo davanti se a rilievo dietro lo prendiamo dietro questo per dieci giri al termine dei miei dieci giri il risultato sarà questo avremo un polsino diciamo perché io ho previsto che fosse a tre quarti il mio cocoon questo polsino vedete con la costina veramente molto bella poi con questo filato veramente è stupenda rimane bello soffice come punto quindi ora vi faccio vedere come rifinire invece i bordi del nostro cocoon allora lavoriamo tutto attorno al nostro cocoon vedete questa è la parte interna e lavorerete semplicemente in circolare perché comunque quindi in cerchio perché comunque dovete girare proprio tutto attorno alla parte interna del cocoon io ripeto per ragioni di riprese andate male ho già realizzato il primo giro di maglia alta ma vi assicuro che è un semplicissimo giro di maglia alta perché oltretutto siamo già nel senso giusto di lavorazione quindi vedete stiamo proseguendo esattamente sopra al fiorellino quindi ho fatto un giro di maglia alta e lo alterneremo a un giro di maglia alta e catenella quindi facciamo tre catenelle una catenella aggiuntiva carichiamo il filo saltiamo una maglia sottostante e nella successiva realizziamo un'altra maglia alta di nuovo catenella carichiamo il filo saltiamo la maglia alta sottostante e nella successiva andiamo a fare la nostra maglia alta catenella saltiamo una e nella successiva maglia alta quindi andremo ad alternare un giro di maglie alte a un giro di maglie alte separate quindi lasciando un forellino separate da una catenella saltando la maglia alta sottostante questo lo facciamo per una quindicina di giri poi dipende da quanto vogliamo che venga alto il nostro cocoon voi potete andare avanti anche per un numero superiore di giri o inferiore poi dipende a voi come desiderate che venga il vostro modello ma ecco continueremo così appunto per il numero di giri che più ci piace allora ecco qua il mio cocoon finito vi faccio vedere proprio da vicino io ho optato alla fine per fare un bordo più basso ma se voi fate i quindici giri come suggeriti all'inizio otterrete una cosa più lunga e più avvolgente io ovviamente l'ho voluto lasciare molto più a giaccone questi sono i polsini rifiniti e io semplicemente ho agganciato un gancettino per poterlo chiudere voi potete optare per un bottone o qualsivoglia chiusura ma potete anche non chiuderlo nel senso che ognuno è il verissimo di decidere come meglio chiuderlo un consiglio per la cucitura è tenete bene presente le costine in modo che vi venga una cucitura pulita vedete io usando uno sfumato ovviamente c'è una certa differenza di colore tra il basso e l'alto ma secondo me è anche bello per questo perché comunque dà un po di gioco un po di movimento al di per sé alla realizzazione del nostro cocoon io spero che vi sia piaciuto vi mando un bacione spero che vorrete venire a trovarmi al prossimo tutorial ciao ciao da luci ciao